Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto e benvenuti su Internet Archive, sito di riferimento archive.org. Questo video l'ho annunciato nel mio precedente videocorso, che trovate sempre qui sul canale YouTube Trainer Andrea, perché ho parlato della macchina del tempo di internet, la Wayback Machine. Invece ora vi mostro in breve come, accedendo a questa risorsa da un qualsiasi dispositivo e browser, programma di navigazione, io posso andare a ricercare in una enorme libreria no profit risorse gratuite per consultazione, ascolto o scaricamento, concernenti in libri, film, programmi, quindi per il computer, musica, siti ed altro ancora. Veramente una miniera. Guardate, se io volessi ricercare un testo, ecco qua, io ho a disposizione la mia barra di ricerca, la mia stringa in cui effettuare le ricerche, clicco, vado a digitare se questo è un uomo primo levi e premo invio sulla tastiera. Mi è venuto in mente un celebre libro che non ha bisogno di presentazioni. Guardate, qui abbiamo, suddivise in categorie, una serie di risorse, risultati concernenti le parole chiave che noi abbiamo utilizzato. Adesso io clicco, per esempio, se questo è un uomo, qui abbiamo la tregua, vedete? Quindi se questo è un uomo e la tregua, probabilmente in unica edizione, andiamo un pochettino a scorrere. Ora sto usando i tasti che commenterò a breve, eccoci qua, primo levi, se questo è un uomo e la tregua, una edizione specifica, ed i tasti che mi avete visto cliccare rapidamente, flip right e flip left, servono proprio per sfogliare il nostro libro direttamente da browser. Ed ecco che con un clic lo vado a sfogliare e poi con la lente con il più o la lente con il meno, anche la comodità di ingrandire di quanto necessario il carattere. Non solo, ma guardate, cliccando dove è presente sull'altoparlante, funzione read this book, io in realtà ottengo l'audiolibro con tanto di testo a fronte. Quindi veramente una risorsa interessante per gli amanti della multimedialità, mostro che in alto abbiamo anche tra le categorie video, audio o software. Se io clicco ad esempio su software per gli amanti di programmi per il computer, magari programmi di cui eravamo in possesso di un CD-ROM e non lo abbiamo più, o programmi di qualche anno fa o che semplicemente non sapremmo come ritrovare, ebbene qui noi possiamo cliccare su all software ad esempio e avere a disposizione una collezione veramente enorme. Vi mostro che comunque se non vogliamo scorrere, consultare tra queste risorse, abbiamo in alto una stringa di ricerca, una barra in alto a destra, che ci permette, inserendo le nostre parole chiave, di effettuare una ricerca più mirata. Insomma, cominciamo a trasferire anche questo tipo di cultura digitale tra noi ma anche ai ragazzi, perché è così che noi andiamo ad ingenerare quella curiosità e soprattutto andiamo a trasferire ai ragazzi un aspetto su internet, certamente non manca che è quello della memoria, però la memoria della rete è enorme, oserei dire quasi infinita, perché in realtà finita è, però così facendo mostriamo ai ragazzi come sia avvenuta anche l'evoluzione della tecnologia e dei contenuti, suscitando in loro curiosità e spunti di riflessione per lezioni non solo di tecnologia, ma trasversali alle discipline. Dunque ancora un saluto a voi la prova pratica di ricerca ed appuntamento al prossimo videocorso da Andrea Cartotto.